Intanto dal rapporto Svimez emerge che dalla 2002 alla 2017 sono stati più numerosi casi di emigrazione dal mezzogiorno che l'afflusso degli immigrati e per i piccoli comuni a rischio di spopolamento. Il sotto zero spopolamento servizi pubblici al di sotto della media nazionale disoccupazione in crescita. Si allarga sempre di più il divario fra nord e sud del paese a lanciare l'allarme l'ultimo rapporto Svimez. La nuova emergenza è l'emigrazione dal meridione che riguarda soprattutto i giovani in fuga verso il nord o all'estero alla ricerca di un lavoro. Tra il 2002 ed il 2017 sono stati oltre 2 milioni gli italiani che hanno lasciato il sud, di cui 132 mila nel 2017, di questi oltre la metà sono giovani. Uno spopolamento non compensato nemmeno dall'arrivo di stranieri irregolari immigrati nel mezzogiorno. Il saldo è negativo per 852 mila individui. La causa principale spiega il rapporto e il deterioramento del quadro economico con il meridione che ripiomba nella recessione. La stima di crescita del PIL per il 2019 è meno 0,3% contro il più 0,3% del centro-nord. Peggiora anche il mercato del lavoro. Negli ultimi sei mesi del 2018 gli occupati al sud sono calati dell'1,7%, mentre al nord sono cresciuti dello 0,3%. Il tutto in un quadro di indebolimento delle politiche pubbliche per il mezzogiorno, rileva il rapporto Svimez. Se si guarda alla sanità ci sono 28,2 posti letto di degenza ordinaria ogni 10.000 abitanti al sud, contro i 33,7% del centro-nord.